Siamo ormai in piena estate e i lidi di tutta Italia sono super affollatissimi. C'è però una soluzione innovativa per trovare e prenotare il vostro posto in spiaggia in modo facile e veloce. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Al giorno d'oggi c'è un'applicazione per qualsiasi cosa. Potete prenotare il ristorante, riservare il parcheggio, trovare una babysitter e persino cercare qualcuno che risolva i tipici problemi casalinghi. Perché quindi non avere un'app per prenotare il lettino e l'ombrellone? Gli italianissimi Antonio Baldassarre e Nicola Palumbo sono gli inventori di Coco, un'applicazione che ha già raggiunto più di 15.000 download e che sembra destinare a conquistare tutta Europa. Coco permette infatti di prenotare ombrelloni e lettini usando semplicemente il vostro smartphone. Tutto ciò che dovete fare è scaricare l'app, registrarvi e poi controllare quali sono i lidi vicino a voi. A disposizione avete anche le recensioni di tutti gli altri utenti e una marea di foto, così scegliere la spiaggia più adatta a voi sarà semplicissimo. Inoltre sarà possibile filtrare i risultati per data e numero di lettini richiesti. Una volta scelto il lido potrete pagare usando Paypal o la carta di credito. Volendo potete inoltre lasciare qualche nota aggiuntiva che verrà poi letta dal gestore della spiaggia. Ovviamente non esiste solo l'applicazione dedicata agli utenti. Su App Store e Google Play Store trovate anche la versione dedicata ai gestori dei lidi. Iscrivendosi gratuitamente questi ultimi possono raggiungere nuovi clienti e offrire lettini e ombrelloni a migliaia di turisti. Tramite Coco è inoltre possibile gestire la disponibilità direttamente da smartphone e tablet e confermare la prenotazione scansionando il QR code del cliente che in questo modo non dovrà stampare nulla. Al momento l'applicazione include solo le spiagge italiane, ma l'obiettivo dei creatori di Coco è di approdare anche negli altri paesi europei. Direi che anche per oggi è tutto. Io vado a prenotare un lettino e un ombrellone per combattere il mio pallore diffuso. Voi ovviamente ricordate di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!